All'iniziativa che vogliamo rimanere sempre in contatto con i nostri nati, soprattutto se sono nati pretermine, perché i nati pretermine necessitano di un controllo e di un follow up continuo. Da noi nascono bambini anche che pesano 450 grammi, 500 grammi, quindi la gestione sia durante il ricovero che nel periodo successivo è una gestione sicuramente complessa che merita la massima accoglienza possibile. A fianco a questo abbiamo tutti i bambini che nascono con parto spontaneo e che sono a basso rischio e quindi la festa mi sembra che debba essere complessiva, unendo sia i bambini pretermine con i bambini a termine normale in modo da festeggiare insieme l'anno nuovo e la Befana.